Yanderelle, 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 tutti per lo Zuzu! Oh mio Dio! Yandere Super Saiyan ragazzi! Ammettetelo che sentivate la mancanza di questa magica sigla che ogni volta fa vibrare gli ossicini delle vostre orecchie come se fossero tante cavallette impazzite o come tante fangherle che saltellano per tutta casa. Non nascondetelo a vostro Zuzu, lo so, lo so, mi posso immaginare tutto. E non è una bella scena quella che sto immaginando. A parte gli scherzi, a parte gli scherzi, siamo finalmente giunti al secondo episodio di Yanderelle Simulator dopo tanto tanto tempo. Ci sta anche un bel menù, vedete, fatto un uvo di zecca, nonostante ci fosse già da un bel po' di tempo. Poi possiamo intravedere Yanderelle e Yanderelle con le sue rivali ammazzate, che poi secondo me più che rivali bisognerebbe dire sguardrine. E in tutto questo arco di tempo che è stato ormai passato ci sono state delle belle aggiunte che adesso cercherò di mostrarvi una per una. Siamo a lunedì 4, aprile 2016. Siamo nella nostra magica cameretta. Non so, oggi mi piace molto utilizzare questa parolina magica. Siamo, se vi ricordate, al tempietto del senpai con lo spazzolino usato dal senpai. Il cerotto usato dal senpai con ancora il sangue. Mi piace leccare il cerotto. E c'è anche la mela morsicata dal senpai. Ah, leccare tutta quella forma di dentatura sulla mela. Oh, tanta invidia per quella mela. Vorrei essere io marsicata dal senpai. Scusatemi, mi sto immedesimando nella Yanderella. Intanto cambia un attimo le mutandine. Anche se pure quelle lì con le fragoline ti viene proprio voglia di prenderne una a una. Capita a me. Comunque oggi si andrà direttamente a... E la madonna, qua è proprio il perizoma. Sarà proprio dentro al culo sto cosa, letteralmente. Però oggi voglio fare una cosa un po' lolitosa. Mettiamo la mutandina con lo sacchiotto sopra. che istiga l'illegalità. E possiamo andare a scuola. Inizio a mostrarvi le cose in ordine, va bene? Iniziamo innanzitutto a mettere... Dov'era il tasso del cacchio? No, questo è per resettare fin qua ci sono. Ah, ok. Per cambiare capigliature voglio metterle. Quella di... Vabbè, questo è Reaia Nami da Evangelion. Ecco qua. Yuno Gasai da Mirai Nikki. Che poi è bello. Vedete i suoi capelli? Sembrano tanti tentacoli. Dei polpi. Veramente, il motore fisico mi spaventa. Vedete qui? Questa è una novità. Che il senpai... Se nota un comportamento sospetto... Decide di schifare la povera Yandrella in questione. Avverrà il game over con la classica parola cuore spezzato. Poi possiamo anche entrare a vedere un nuovo edificio. Vedete? La palestra. Questo sarà molto importante. Perché potremo rapire le nostre rivali in amore. Sì, avete capito benissimo. Questa è una delle tante aggiunte. Quindi per fare questo innanzitutto bisogna complimentarsi con i vari compagni e compagne di tutto l'istituto in modo da aumentare la reputazione. E una volta giunto ad un livello accettabile, cioè la barra scura rosa, potremmo chiedere dei favori. Quello di farci seguire. Intanto faccio un attimo il procedimento, ma non vi preoccupate perché taglierò tutto. Vedete? Adesso la reputazione è a livelli giusti. Però manca ancora una cosa. Devo migliorare me stesso in biologia. Ho già fatto un pochettino per i fatti miei. Mettiamo gli ultimi 5 punti di studio. E abbiamo raggiunto il livello necessario per saper somministrare i tranquillanti nei corpi. Quindi umani, umani, umani. Perfetto. Adesso corriamo subito prima che se ne vadano tutti quanti. Vado un attimo in infermeria sperando di beccare subito a primo colpo la porta giusta. Avete visto ci stanno anche le professoresse, però su questa cosa qua ne parleremo più avanti. Intanto qui abbiamo il tranquillante, la siringa. Questo tutto in infermeria, tra cui ci sta anche un'infermiera proprio a tettone e gnocca. Complimenti al madre e al padre che l'ha fatta. Adesso prendiamo una povera vittima. In questo caso a su nemico. Ma le chiedo di seguirmi. Sei la migliore amica per me, lo sai? Seguimi in palestra, c'è una cosa figa che voglio farti vedere. Fu così che... Venne praticamente inculata a sangue. In tutti i sensi. Seguimi. Perfetto. Ok. No, sembra una cosa si è Abe Exodus. Allora, siamo qui dentro. Perfetto, ubbiamo la porta, anche se non è che ce ne sia bisogno. Equipaggiamo la siringa. E attacchiamo. Come potete vedere non è stata uccisa, bensì è stata narcotizzata. Sta dormendo. Sogni, spero, tranquilli e sereni. Adesso noi la prendiamo e la nascondiamo in questa scatola. Eccola qui. Con tanto di capelli che escono fuori. Viva i limiti tecnici. Adesso, che devo fare? Me ne devo andare. Praticamente lei se ne va da scuola. Va a casa. Dopo ritorna in palestra, tutta sola. Prende la povera ragazza con tutto lo scatolo. Sì, avete capito benissimo. E la porta in cantina. Adesso vi faccio vedere. È una palla, poi, con ogni volta che passa la giornata, i capelli ritornano a livello standard. Eccola qua. Lasciate perdere che adesso ha altri capelli. Purtroppo parliamo comunque di un arfe. Però, adesso, una delle nostre rivali è finalmente rapita. E vivrà solo di pane e acqua. Anzi, forse neanche quello. Adesso andiamo direttamente a scuola. Che voglio mostrarvi un'altra cosa. Vado un attimo nei bagni. Delle ragazze, ovviamente. Perché non voglio fare la birbantella. Aspirare i maschiacci. Chissà la loro reazione. A vedermi nei bagni. Però penso che non sia ancora stato implementato. Qui siamo nei bagni della ragazza. Vediamo un pochettino se arriva la nostra vittima. Purtroppo sono dovuto passare a giovedì. In realtà si potrebbe anche ammazzare qui. Praticamente si può togliere la vita altrui. Soffocando le povere vittime nell'acqua. In questo caso alla fontanella. Però, onestamente, preferisco mostrarvi direttamente la scena nei bagni. Aspettiamo che arrivi. La nostra bella sguadrina. Non metterai mai le tue manacce sul mio senpai. Siamo giunti, finalmente, al poter ammazzare questa. Facendole bere tanta acqua. Come posso dire? Acqua. Acqua disorgente. Pura. Levissima. Freschissima. Allora. Vedete? Ehi, cosa stai? Cosa stai? Sembra che le stiamo affondo allo shampoo. Come sono i sassicciotti alla liquirizia, mia cara? Sono buoni. Spero che non si siano incastrati alcuni pezzettini. Tra i tuoi dentini. Intanto possiamo anche chiudere la porticina. Ecco qua. E nessuno saprà quello che è realmente accaduto. Poi, per farvi vedere anche un'altra cosa, ne approfitto. Prendiamo la siringa. E attacchiamo un insegnante. Che ha studiato arti marziali. Boh. L'ha bloccata sul colpo. E spulsa. Non è che sia un film che mi piace molto, eh. Ricarico. Perché voglio far vedere anche un'altra variante di questa cosa. Rimettiamo sempre i capelli di Yuno Gasai. Perfetto. Ah, come l'amo questa pianterella. Prendiamo il coltellino. Ah. Quello per cucinare. Adatto per tagliare le carni. Ah. Ma con delicatezze. Mannaggia, quella lì si è salvata. Vabbè, ammazziamo così. Perfetto. Ci stanno vari testimoni. Vedete? Adesso. Qualcuno di loro andrà a chiamare la professoressa. Vedete? Lo studente con la professoressa. Volendo posso anche subito ripulire i cadavri. In modo che lei poi non possa... Credere a tutta questa sorella. E poi dare ovviamente la colpa a lui. Perché però la polizia immediatamente. Adesso se mi faccio vedere da lei. Vedete? Lei rimane sul cadavere. E non è la possibilità di sbarazzarti del corpo. E delle varie prove. Altra variante è questa. Vedete? Ammazziamo una. Adesso ci facciamo vedere da Senpai. Senpai! Oh mio Dio. Perché hai così tanto sangue su di te? Hai ferito qualcuno? Cuore spezzato. Il Senpai la schifava. Non avrei dovuto farmi vedere in quello stato. Può capitare. Anche i migliori di sbagliare. Adesso ci tocca andare in terrazza. Dopo la lezione. Per scoprire un fattaccio. Veramente niente male. Innanzitutto. Andiamo a migliorare la lingua. Così potremo scrivere per esempio. False lettere d'amore. E anche false note suicide. Non è obbligatorio questo passo. Però lo faccio per completezza. Bisogna origliare. Una di loro due confessa di subire abusi in famiglia. Da quando sua madre è morta. Il padre si ubriaca. E mi sa che è la stupra. Spero che non avvenga questo. Tutto ciò mi porta a pensare. Questa cosettina. Vedete abbiamo appreso una nuova informazione. Che adesso useremo a nostro vantaggio. Perché siamo delle yanderelle stronze. Vogliamo eliminare il più rivali possibile. Perfetto. Hanno finito. Devo fare una scena anche con la yanderella super saiyan. È troppo figa. Mi ricordo Vegeta onestamente. Continuo a migliorarmi nella materia lingua. Adesso possiamo scrivere queste note suicide. Innanzitutto andiamo un attimo di qua. Andiamo all'armadietto prima che arrivi. E lasciamole una nota. Allora voglio parlarti riguardo a Abuso domestico. Abuso in famiglia praticamente. Per il piacere incontrami Sulla terrazza Alle Alle 4 Io spero che sarai lì. Adesso allontaniamoci. Vedete un po' cosa succede. Apri il suo armadietto E trova questa ventina. Cos'è questo? Forse dovrei incontrarla. Sì perché ovviamente non vuole che Si sappia poi in giro di questo abuso in famiglia. Quindi adesso andiamo in terrazza E aspettiamola. Sperando che non sarà troppo in ritardo. Ovviamente le ragazze fanno sempre ritardo Agli appuntamenti Eppure quando devono morire. Incredibile. Ce l'hanno proprio Nel loro DNA Da millenni Si fanno desiderare In qualsiasi situazione. Eccola, eccola. Adesso noi andiamo piano piano Come una bella stronzetta Saianderella Non avrei mai il mio senpai brutta squattrina Io sono il super saian della leggenda Crack letteralmente Mi sa che avrà fatto male da questa altezza Non può volare Non è un saian Vabbè Anche gli esseri umani Volano in Dragon Ball però Lasciamo la noto suicida La scuola Troverà il cadavere Chiamerà la polizia E facendo Vari indagini Trarranno Un'unica conclusione Cioè che lei Si è suicidata Questo fa capire Quanto la polizia Si è idiota Letteralmente Beh In tutti i sensi In tutti i sensi Quella lì che sta sempre là Ma se non lo sapete ancora Dell'amica di infanzia del senpai E quindi la rivale numero uno È quello che vi ho detto io Ho riavviato di nuovo la settimana Perché bisogna adesso migliorarsi In un'altra materia Cioè la chimica Per poter creare veleni Almeno nello stato attuale Delle cose Così potremo avvelenare Le nostre sguadrine Maledette Non toccherete mai il mio senpai Non lo avrete mai Io lo avrò io Fino all'ultimo pezzo Fino alla luce del piede Mamma faccio paura Quando dico se stronzate Perfetto Prendiamo il veleno Se non possiamo fare nulla Vedete Dovrebbe stare se di là Perfetto Lo prendiamo Eccolo qua il nostro senpai Che ammira il panorama E nel frattempo Dovrebbe arrivare La nostra rivale Alias Sguadrina Eccola lì Con il suo Pento Vedi qua Bellezza Poi ci avete fatto caso Che hanno aggiunto anche le voci Mi sono dimenticato di dirlo Ma a me non l'ho detto A fine video Lei ha detto Oh eccolo lì Brava Lascia in custoditi il tuo pranzettino Avveleniamo il petto Oh senpai Quando noterai Come mi sento Nei tuoi riguardi Direi i miei sentimenti Questo venerdì Io spero che li accetti Adesso le mangia Deve fare prima Una piroetta Su se stessa Se no Il cibo non è buono Risulterà indigesto Oh Ma che ho beccato un bagno Di qua mia cara Più di qua Di qua Di qua Ah Avete visto Adesso è riuscito a mangiare Non voleva morire Non voleva morire Sguadrina Non metterai mai le tue manacce Sul mio senpai Mangia di questo E muori E invito di fare la risatina Della ianderella Perché se no mia madre Veramente chiamerà Il CSM Centro Sanità Mentale Mi porterà a manicomio Ed eccola qui Che è morta ovviamente A gamba aperta Ma ho visto anche Un breve panzù shot Complimenti a buoni gusti La signorina Però non capisco Perché deve morire Proprio con le gambe aperte Proprio a dire Abuso di me Necrofili a go go Eh ma ragazze Ragazzi ci sta un cadavere Qui in mezzo Sulla terrazza Ah finalmente L'hanno vista Vedete Tutti quanti scappano Qualcuno avrà chiamato La professoressa Non so se Lo stesso senpai Eh dai Vogliamo sbrigarci Grazie Ah è proprio Senpai in persona No Non può essere Ah per accertarsi Della sua volta Vabbè è arrivata L'ambulanza Non è stato possibile Di animarla Non hanno capito Che è stato Un omicidio Complimenti alla polizia Veramente i miei complimenti Vabbè ragazzi Questo era quello Che volevo Praticamente mostrarvi Adesso Concludiamo il tutto Con gli easter egg Che si sbloccano Tramite un pulsantino Ecco che iniziamo con Quello di Metal Gear Solid The Phantom Pain Che è un fan Poi me l'ha ricordato Onestamente Non Non ci avevo fatto caso Nonostante Sono un grandissimo fan Della saga Di Metal Gear Veramente una bestemmia Per il sottoscritto Su me stesso Che do Venia Mea culpa Vabbè risettiamo Di nuovo Perché devo mostrarvi Una per una Poi ci sta Quello dello Slender Vedete qua Sarebbe figo Giocare il gioco Tutto in questa modalità Da pazza Però via Poi ci sta Vabbè Quest'altra Risettiamo ancora Poi Quest'altra Proprio in modalità Incazzosa Poi Vabbè Quello Titano Mettiamo Galo Mod Proprio da Ti fa venire I brividi Tolgo subito Perché altrimenti La musica potrebbe Darmi problemi Di copyright Poi abbiamo La modalità Donkey Kong È un gorilla Madonna mia Che impressione Posso mettere anche Sì sì Spettacolo I capelli Sono anche più grandi E La modalità 47 Da Hitman Ragazzi Col codice A bar Sulla nuca Mio Dio Mio Dio Vabbè Resettiamo Detto questo Ragazzi Vi saluto Se volete Commentate In base A tutto quello Che vi ho fatto Vedere Su Yandere Simulator Questi qua Comunque erano Le novità Più sostanziose Se ce ne saranno Altre In futuro Non vi preoccupate Ve le mostrerò E Alla prossima Grazie come sempre Per tutto il vostro Supporto Bye Bye